Santa Maria della Vittoria Il palazzo che ha ospitato il museo agrario geologico, primo museo dell'Italia Unita, è oggi praticamente abbandonato a se stesso, né è facilmente visitabile. Scommetterei per il futuro in un hotel di lusso oppure un bel centro commerciale. Al centro dello slargo resti delle mura serviane, per chi ne vuole sapere di più rimanda la sezione di VidLab, archeologia e storia dell'arte romana. E infine un'opera contemporanea del 1997 in marmo butticino, alta 5 metri e mezzo, Giano nel cuore di Roma, di Pietro Consagra, siciliano di Mazzara del Vallo, scultore che ha dato un forte contributo artistico alla nuova gibellina distrutta nel terremoto del 1968. Avviamoci verso via 20 Settembre. A destra la caserma del reggimento dei Corazzieri, ricavata nel 1870 da una parte del preesistente monastero collegato con Santa Susanna. A sinistra la chiesa metodista, dalle interessanti vetrate. E la chiesa presbiteriana scozzese di Sant'Andrea, patrono della Scozia, e la cui cruce, insieme a quella di San Giorgio, patrono dell'Inghilterra, e San Patrizio, patrono dell'Irlanda, formano la bandiera del Regno Unito. Arriviamo alle quattro fontane, un punto che fino all'unità era un punto panoramico tra i più belli. Dove questa strada si incrocia con l'altra lunghissima strada felice, ei dispose ai quattro angoli quattro fontane, troppo meschine, per un sito il più bello di Roma. Così ci informa in inizia nelle sue memorie degli architetti antichi e moderni, riferendosi a Domenico Fontana, l'architetto di Sisto. Nel quadrivio, punto più alto del colle Quirinale, dove sorgeva un tempio dedicato a Quirino, divinità di probabile origine di Sabina, oggi soffocato da traffico e smog, si possono vedere l'obelisco sallustiano, posto da Papa Pio VI nel 1789 a Trinità di Monti. Nel lato opposto, l'obelisco di Sisto V, di fronte a Santa Maria Maggiore, eretto duecento anni prima. Nel lato verso il Quirinale, l'obelisco posto nel 1786, sempre per volere di Pio VI, e nel lato opposto, in fondo, porta via l'opera Michelangelesca. Perché le quattro fontane? Come oggi ho detto, parlando della Fontana del Mosè, il processo di riurbanizzazione della zona, voluta da Sisto V, partiva dal presupposto che vi fosse l'acqua, cosa che avvenne con la realizzazione dell'acquedotto Felice. Le quattro fontane, ieri come oggi, gettono dalle loro buche quell'acqua. Sisto dà incarico al suo architetto di fiducia, Domenico Fontana, di progettarle in economia naturalmente. E infatti, Travertino e Peperino vengono prelevati dal cadente Settizogno, imponente facciata e retta da Settimio Severo, imperatore di origini libiche, ai piedi del Palatino. E le spese di messa in opera vengono sostenute, da Muzio Mattei per almeno due quelle che rappresentano i fiumi, le altre due pare, da un certo Geridenzoni Giacomo e da Antonio Grimani, vescovo, forse proprietari dei terreni circostanti e realizzate negli anni 90 del Cinquecento. Sconosciuti gli autori. Visto che c'è, il Mattei comunque si fa costruire un palazzo dal Fontana, oggi palazzo al bali del Drago. Le Fontane mostrano due figure maschiche e due femminile, disposte sui quattro lati. Le figure femminili rappresentano Diana, identificata con la luna in mezzo ai capelli, ovvero la fedeltà per via del cane, sdraiata con il gomito appoggiato sul simbolo di Sisto V e i Tremonti, e nella vasca gli altri simboli, le stelle e il leone. A completamento ipotizzerei che tieni in mano tre pere, così avremmo lo stemma al completo. Per qualcosa inspiegabile per me è circolata l'attribuzione di questa statua a Pietro da Cortona. Ora, i simboli Sistini, nonché alcuni documenti, datano l'opera intorno al 1590 circa. Pietro Berrettini da Cortona nasce nel 1593, primo fatto. Secondo fatto, Pietro da Cortona è essenzialmente un pittore, anche se si dedica all'architettura, ma non allo scultura. Terzo fatto, Pietro da Cortona non l'avrebbe mai fatta così scadente. Più probabile, forse, che l'abbia risistemata in occasione dei lavori sulle proprietà dei barberini, di cui vediamo i simboli in alto, le api. Anzi, a dire il vero, l'opera è l'unia delle quattro, destrutturata rispetto alla costruzione, quasi a prenderne le distanze. La stessa ape la troviamo nell'edicola dedicata alla Madonna, che quindi potremmo sopporre seicentesca, ma in me non si vede nella riproduzione di Giovan Battista Falda, databile nella seconda metà del Seicento, quindi potrebbe essere stata trasportata in occasione della costruzione del nuovo palazzo, che è del 1936. L'altra figura, artisticamente più bella a mio parere, rappresenterebbe Giunone, per Via dell'Oca, animali sacri alla Dea e allevati sul Campidoglio, dove esisteva un tempio a lei dedicato e che a seguito dell'episodio delle ocche che allertarono i romani sul tentativo d'assalto dei galli di Brenno, fu chiamata Iuno Moneta, cioè Giunone avvertitrice. La costruzione della zecca nei pressi del tempio è all'origine del nome corrente di Moneta. Qualcun altro ci vede anche la rappresentazione della fortezza per Via del Leone, su cui la Dea pone la corona, e che potrebbe sempre alludere allo stemma di Sisto V. Il tutto sullo sfondo di una palma frondosa, inserita successivamente a partire dal 1667, che emerge da una fitta vegetazione o da uno strato roccioso costalattiti, fate voi. Addossata al chiesa di San Carlino, la rappresentazione del Tevere, con cornucopia a sinistra, volatile a destra e lupa al fianco, il tutto un po' approssimativo. L'ultimo personaggio non trova una definizione univoca. C'è chi ci vede l'arno, chi la niene, chi il nilo, chi vede i papiri, chi semplice ganne nostrane. Il leone può significare tutto. L'unica nota particolare è che è nudo, fatto inconsueto per l'epoca. Il complesso delle quattro fontane stupisce in qualche modo per il suo insolito spirito pagano, in un'epoca, quella sistina, in cui si tende a prendere le distanze da ciò che non rientrano i parametri della chiesa. Forse il gruppo vuole essere un richiamo alla fontana del Campidoglio, dove finalmente anche a lì arriva l'acqua del nuovo acquedotto Felice, e dove appunto vengono utilizzate le statue di due antiche divinità fluviali, il Nilo e il Tigri, che con l'aggiunta di Romolo e Remo diventa il Tevere. Certamente il materiale usato cede all'ingiuria del tempo e allo smog contemporaneo, vanificando l'opera già di per sé modesta. Tuttavia, con un po' di buona volontà, possiamo anche avvertire l'atmosfera dell'Ammannati, artista toscano-madirista, formatosi tra Firenze, Venezia e Roma. Un saluto da Videlab, ci vediamo a San Carlino. Un saluto da Videlab, ci vediamo a San Carlino.